Benvenuti a questo match da parte di Piero Gipardo, speriamo che la gara possa regalarci 90 minuti di calcio spettacolo, coinvolgo subito Stefano Nava. Tutti ci aspettiamo un match scoppiettante, possibilmente con dei gol, speriamo di non rimanere delusi. Sono reduci da un pareggio nell'ultima gara, vedremo come ce la caveranno oggi. Vediamo in campo la formazione del Manchester United. Vediamo la formazione iniziale del Liverpool. Affrontano la gara con un 4-4-2 ma con dei giocatori capaci di spingere, di prendere sull'acceleratore. Con Mata. Il Liverpool è pronto per la rimessa laterale. Klein. Orishi. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Roberto Firmino. Schürtel. Milner. Vente che ha recuperato il pallone senza difficoltà. Qua Mata. Schweinsteiger. Cross pericolo. Schneiderlin. E il pallone entra. E' il gol. Ha sfruttato veramente al meglio questo cross. Sì, ha scelto bene il tempo. L'ha messa dove voleva. Stacco imperioso. Non lascia scampo al portiere. Si riparte dunque con lo United avanti. Arbitro che viene già chiamato in causa. Un'entrata decisa e efficace. Schweinsteiger. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Tellaini. Occhio al contrasto. Show. Buona. Si era liberato bene ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Sì, buono il movimento. Però il fuori gioco è giusto. Palla dentro a cercare Runei. E c'è la presa sicura del portiere. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo. Intervento efficace. Prova la botta. Un bolide ma completamente fuori in bersaglio. Tirare fotte non è complicato. Hai trovare la misura un po' più difficile. Roberto Firmino. Milner. Palla buttata via. Ruba bene palla all'avversario. Schneiderlin. Il portiere dice di no. Alla fuori sarà corner. La allontana di pugno. Attenzione. Pallone troppo alto. Si riparte con una semplice rimessa dal fondo. Coutinho. Baragna metri verso l'area. Interrompono bene l'azione allentando la pressione sulla difesa. c'è il tocco sulla fascia. Perdono il pallone. Milner. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. per il pallone e provano a ripartire. Non va. smalling. Il pallone e provano a ripartire. Il pallone e provano a ripartire. Il pallone e provano a ripartire. per il pallone e provano a ripartire. Per il pallone e provano a ripartire. del portiere che blocca il pallone. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Ventechè. Appoggia ma lì non c'è nessuno e dunque rimessa per gli avversari. Palla che è finita sul fondo, si ripartirà con la rimessa. Occhio al cross. E c'è il tiro, troppo centrale qui, facile per il portiere. Roberto Firmino. Artiglia bene il pallone. Passaggio intercettato. D'Armiano. Cross in mezzo. Buona uscita del portiere che blocca il pallone. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. C'è il traversone. Prova a andare. C'entra in pieno il difensore. Si chiude il primo tempo. Squadre... Comincia il secondo tempo con il Manchester United in vantaggio. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Palla recuperata. Azione interrotta. Cutigno. C'è un'ottima rete di passaggio. Prova ad andare. Ed è rete! Con questo gol il titolo rischia davvero di sfuggirti dalle mani. Hanno bisogno di una vittoria se vogliono festeggiare al termine della gara. La piazzata con precisione assoluta. La palla può fare davvero tutto quello che vuole. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Prova a rubargli il pallone. Mata. Palla centrale. Nessun problema. Palla e mezzo verso Runei. Pallone molto pericoloso questo. Si alza la bandierina. Tutto fermo. Lo scatto era perfetto. Forse, forse con un istante rantino. Aveva gustato l'occasione importante. Aveva fatto conti con il guardaline. Poteva essere una buona opportunità, ma hanno perso il pallone. Coutinho. Intervento pulito sulla palla. Runei. Il Manchester United guadagna dunque la rimessa con le mani. Chiude bene il triangolo. Occhio al cross. La trova bene in mezzo. Intercettano bene il pallone. Intervento ruvido, ma corretto. Fellaini. Palla dentro a cercare Runei. Nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Palla in out. E dunque calcio ad angolo. Smolling. Ed entra in rete. Gol! E questa rete rompe la situazione di parità. E le cose si fanno interessanti ora. Mi aspettavo un match certamente più equilibrato, con poche occasioni. E invece oggi sono riusciti a calciare spesso in porta. E hanno trovato il gol, la via della rete. Hanno creato parecchie palle e golle, vero. Ma poi bisogna essere anche bravi a concretizzarle, come in questa occasione. Stacco imperioso. Non lascia scampo al portiere. Fammata. Ci sarà la rimessa dal fondo. Milner. Orishi. Perdono il pallone. Fellaini. Roberto Firmino. Palla persa. Fellaini. Vince il contrasto e recupera il pallone. Crosa. Crosa. Milner. Schweinsteiger. Runei. Passaggio perfetto. Occhio alla botta. Sbaglia una conclusione che poteva dargli grande sicurezza. E devono stare attenti a non sprecare troppo Pierluigi. Sostanziale l'equilibrio fin qui sul possesso palla. Bisogna vedere come viene sfruttato questo possesso però. Occhio al tiro. Bella parata. In tuffo. E' uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. A. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing. Govation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Martial. Lallana. Show. Chiede aiuto al portiere. Roberto Firmino. Orishi. Vanno a girare il pallone molto bene. Carrick. Ha non solo gol di vantaggio, ma potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del titolo, visto che manca poco. Chissà se gli avversari riusciranno a guastargli la festa. Passaggio che non era certo, tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Martial. Mancano otto minuti al termine della partita. salgono i compagni. Alberto Moreno. fommata. Sono ancora avanti di un gol quando mancano cinque minuti alla fine. Traffico nell'area del Liverpool per questo corner. Cerca la rete. Palla che termina largamente sul fondo. Martial. Scho. Premia la corsa sulla fascia. Martial. Martial. Tiro largo fuori persino. Carrick. Roberto Firmino Venteche Quamata E dunque dopo il fisco dell'arbitro Finisce sul 2 a 1 il match Ce l'hanno fatta Hanno conquistato il titolo È impossibile dimenticare momenti del genere Cross pericolo Schneiderlin C'è un'ottima rete di passaggi Prova ad andare Ed è reso Palla in out E dunque calcio d'angolo Smalling Ed è reso